Un'ondata di calore inedita sta colpendo l'India. Nella capitale Nuova Delhi le temperature hanno sfiorato i 46 gradi. L'ondata di caldo di quest'anno è addirittura più forte di quella del 2015, quando più di 2500 persone sono morte per le alte temperature in India. Fa così caldo che frutta e verdura ammarciscono. Anche quando bagniamo gli ortaggi per proteggerli dal calore marciscono. A casa ho un ventilatore ma non c'è l'elettricità. Continua a saltare, a volte torna dopo due giorni. Non abbiamo neanche acqua potabile, stiamo male quando la beviamo. Questa ondata di caldo insolitamente precoce potrebbe avere conseguenze gravissime sull'agricoltura del paese, da cui dipendono oltre un miliardo e 300 mila persone. A causa del caldo le coltivazioni hanno sofferto e le risorse idriche sono insufficienti. Il raccolto sarà metà del previsto. In varie aree dell'India questo è stato il mese di marzo più caldo dal 1901. Secondo gli esperti queste ondate di caldo saranno sempre più frequenti nell'Asia meridionale a causa del cambiamento climatico.